Amici dell'esperto risponde, buonasera, ben ritrovati qui su Sky Canale 511, ci avviciniamo alla scadenza dalle dichiarazioni dei redditi e andiamo a dare un po' un rimpasto di quelle che sono tutte le varie casistiche, soprattutto la differenza fra 730 e il modello unico, ricordiamo che il 730 deve essere presentato, può essere presentato, anche precompilato e comunque la presentazione eventualmente cartacea va dal periodo 2 maggio 30 giugno e invece quella telematica entro il 30 di novembre, così anche per il modello unico. Ricordiamo che per quanto riguarda il modello 730 la differenza sostanziale rispetto al modello persone fisico, ovvero l'unico, è quella che deve esserci un sostituto d'imposta, quindi deve esserci un datore di lavoro o piuttosto che un'altra tipologia di sostituto d'imposta che possa operare in nome e per conto dello Stato, qualora ci fosse o un credito o un debito. Vi è anche la possibilità di optare per il modello unico persone fisiche in caso di più redditi da dover conguagliare. Attenzione, potete avere questa possibilità con più redditi facendo sia l'unico che il modello 730, ma si può anche fare il modello 730, andare a debito e il debito viene poi automaticamente dal sostituto d'imposta decurtato nella busta paga con poi ovviamente la possibilità di realizzazione massimo 4 arate e poi ovviamente se presente anche il secondo acconto del mese di novembre, il secondo acconto che ricordiamo poi deve essere appunto versato entro il 30 di novembre. Sono obbligati a trasmettere la dichiarazione del 2022 i contribuenti che congiuntamente hanno conseguito redditi nel 2021 e non rientrano nelle ipotesi dell'esonero e i casi di esonero, tra i casi di esonero ci sono coloro che possiedono redditi solamente come di seguito indicati, cioè abitazioni principali e pertinenze, lavoro dipendente o pensione, attenzione, lavoro dipendente qualora non aveste qualcosa da dovervi portare in detrazione, è chiaro che se voi siete lavoratori dipendenti ma non avete spese mediche, ma non avete spese condominali per strutturazione, non avete mutui, potete anche non presentare la dichiarazione di redditi in quanto il vostro datore di lavoro ha già operato alla fonte la ritenuta, quindi questo è importante. I redditi devono essere ovviamente stati corrispondi da un unico sostituto di imposta, ovvero erogati da più sostituti ma certificati che all'ultimo ci sia stata la somma dei redditi precedenti, quindi se nell'arco di un anno avete avuto più datori di lavoro dovete comunque presentare tutte le certificazioni uniche e a quel punto è obbligatorio presentare la dichiarazione dei redditi, perché? Perché questo a meno che voi non abbiate nel mese di dicembre chiesto il conguaglio. Facciamo un esempio, io ho avuto tre datori di lavoro, al terzo datore di lavoro nel mese di dicembre comunico i redditi dei precedenti due datori di lavoro, chiedo il conguaglio direttamente in busta paga e a quel punto siete esonerati, altrimenti se non volete avere il conguaglio nella busta di dicembre che per voi potrebbe essere troppo oneroso dovete presentare la dichiarazione dei redditi, potete presentare il modello 730 in caso di sostituto di imposta se non avete un datore di lavoro dovete presentare necessariamente il modello unico persone fisiche, il modello unico persone fisiche, che cos'è che cambia sostanzialmente? Cambia nel pagamento delle tasse o nel credito, nel senso che il 730 assolutamente viene utilizzato per ottenere dei crediti a livello di busta paga per appunto come abbiamo detto prima spese mediche piuttosto che spese condominali eccetera, mentre invece il modello unico viene presentato per lo più per quando ci si deve andare a fare un pagamento dei debiti, è chiaro che se, di tasse, è chiaro che se aveste un credito ma non avete il datore di lavoro purtroppo non potete fare il 730 e dovete necessariamente fare l'unico con le modalità di rimborso che non sono assolutamente quelle del 730 ma sono purtroppo quelle un po' più ampliate e dilazionate delle persone fisiche. Nel caso in cui invece abbiate più redditi e vogliate fare il 730 voi avete il massimo di quattro rate per il primo acconto e la trattenuta in busta paga a novembre del secondo acconto. Potete perché optare per il modello unico? Perché con il modello unico il vostro commercialista vi produrrà poi dei modelli F24 che voi dovrete versare autonomamente. Il vantaggio dove sta? Che se voleste non versare quel mese per motivazioni vostre il pagamento della tassa potete farlo poi in una situazione successiva con la maggiorazione, con una sanzione e con gli interessi da calcolarsi dal giorno di scadenza al giorno in cui effettivamente andate a pagare le tasse. Ultimo andiamo a vedere gli esoneri per tipologia di reddito. Per terreni fabbricati il limite di reddito è quello dei 500 euro per il quale poter non presentare la dichiarazione. Per le pensioni e altre tipologie di reddito 8.000 euro. Per pensioni più terreno, abitazioni principali e le sue pertinenze sono 7.500 euro. Per la pensione più altre tipologie di reddito 8.000 euro. Assegno periodico corrisposto dal codice sono 8.000 euro. Redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi per la detrazione prevista non è che non è rapportata a rapporto di lavoro sono 4.800. i comprensivi derivanti da attività sportive e dilettantistiche 30.658,28. Di conseguenza queste sono le possibilità di esonero per i limiti di reddito. Noi abbiamo terminato, io vi do sempre appuntamento qui su Sky, canale 511, per una nuova puntata dell'Esperto risponde. Buonasera a tutti.